E' Cantiano Fiera Cavalli il primo dei grandi eventi ad essere inserito nel programma di Pesaro, capitale della cultura 2024, allargato all'intero territorio provinciale. L'evento alle pendici del Catria arriva in riva all'Adriatico, non solo perché il municipio pesarese ha aperto oggi le sue porte all'amministrazione e all'evento cantianese, ma perché la Fiera Cavalli avrà una sua piccola preview anche a Pesaro, dove domenica dalle 14 alle 17 i cavalli del Catria e i loro cavalieri saranno all'ombra della palla di Pomodoro per una anteprima di avviamento all'equitazione e per spiegare e mostrare la bellezza e le caratteristiche di questi splendidi equini. Un antipasto prima del piatto forte del 30 aprile 1 maggio con Cantiano Fiera Cavalli che a Chiaserna aggiunge un'inedita versione primaverile rispetto all'abituale collocazione di ottobre della Fiera. Noi siamo molto gratificati e onorati di poter fare questa prima, questo lancio da Pesaro in questo circuito, in questa virtuale, in questo percorso che in 80 chilometri unisce la nostra bella provincia, dal mare al massiccio del Monte Catria, passando tra le eccellenze territoriali. Noi crediamo che ogni comune possa tramite la sua eccellenza rappresentare e promuovere l'intero territorio. Cantiano con il cavallo del Catria, quest'unica razza autoctona della regione Marche, crea un fattore attrattivo che ormai è secondo solamente a Verona, Fiera Cavalli, in un contesto ambientale di pregio con eccellenze agroalimentari di qualità e quindi crediamo che attorno a questo volano, che appunto è questo elemento identitario che è il cavallo, si possa creare ancora più economia di quella che esista attorno alle tipicità e all'economia che si genera su questo settore. Abbiamo questo cavallo del Catria che è una ricchezza di tutto il territorio e io quanto penso alla bellezza di questo cavallo mi ritorno alla mente quando negli anni, a metà degli anni 80 Pierina Scaramella purtroppo che abbiamo un po' dimenticato che era stata una professoressa e che aveva aperto l'orto botanico a Urbino tenne una conferenza a Verona sul fieno del Catria, per cui il cavallo del Catria mangiando quel fieno lì, lei diceva che addirittura i doggi di Venezia lo richiedevano per i loro cavalli e per le loro stalle. Credo che sia un evento a cui tutta la provincia deve prestare attenzione e una volta che arriviamo lì riportiamo via un po' del pane di chiaserna che è uno dei migliori del territorio.